La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni per quasi 12 milioni di euro a 5 imprenditori della grande distribuzione e a 3 professionisti. L'indagine della Procura di Napoli Nord, guidata da Maria Antonietta Troncone, contesta agli indagati il reato di bancarotta fraudolenta, scoperte violazioni fiscali per oltre 6 milioni e mezzo di euro e disastri di denaro e beni per oltre 7 milioni di euro, che avrebbero portato al fallimento di tre noti supermercati a Casoria, a Fragora e Cardito nel Napoletano. I finanzieri hanno ricostruito il sistema con il quale due fratelli, insieme ad alcuni ex dipendenti, omettevano il pagamento delle imposte e trasferivano la merce da un supermercato all'altro. Avrebbero addirittura creato società ad hoc verso le quali trasferire beni. Tutte manovre che avrebbero portato a un passivo di quasi 27 milioni di euro e a un debito nei confronti dell'erario di quasi 13 milioni di euro.